Cerchi un pub che sia anche un wine bar, una discoteca, una pizzeria, un ristorante con cucina mediterranea che ti offra piatti tipici calabresi, succulente tagliate di carne o di pesce o sfiziose paeglie? E chiedere troppo? Non per il Ciaccarita! L'unico dotato di due sale, una per la cena, una per la discoteca, che potrai affittare per qualsiasi occasione. Cene speciali, cerimonie, feste da ballare tutta la notte. Per noi tutto è possibile, solo al Ciaccarita! Lungomare Sud, Marina di Caolonia